Ciao ragazzi e benvenuti, oggi vi porto al lavoro con me, questo è il teatro dove lavorerò quest'oggi Oggi ho riesumato la mia vecchia GoPro Prova 1, 2, 3, prova In questi giorni sono a lavorare nei teatri per degli spettacoli di danza E quindi ne approfitto per portarvi un po' con me per farvi vedere che tipo di attrezzature utilizzo Certo non sono set cinematografici con grandi attrezzature eccetera Però comunque è sempre un luogo molto interessante quello del teatro Poi ho comunque un rapporto con la danza fin da quando ero ragazzino Pensate che ho cominciato a fare le fotografie nei teatri proprio ai ballerini quando avevo 15 anni La cosa strana è che comunque non mi sono mai specializzato nella fotografia Nel senso non ho mai scelto di fare il fotografo di professione Però quando ci sono dei ballerini su un palco all'interno di un teatro Mi viene proprio spontaneo andarci a lavorare o cercare di lavorarci insomma Adoro quell'ambiente, adoro la danza, adoro le ballerine soprattutto Che vabbè questa è un'altra cosa Quindi vi farò vedere insomma un po' come lavoro Perché anche nel teatro, anche riprendendo uno spettacolo di danza Ho delle mie tecniche, dei miei trucchi e segreti precisi Questo cosa cazzo vuol fare? Vuol morire? No Per prendere l'audio in macchina, siccome la GoPro riprende sempre molto le frequenze dell'auto Tutto le gomme, tutti i rumori di sottofondo Io ho collegato direttamente il mio microfono Sennheiser Quindi mi auguro che l'audio sia un attimino meglio In teoria sì Questo è l'audio ripreso direttamente con la GoPro Sentiamo la differenza Devo essere sincero Ogni volta che accendo la vecchia GoPro Mi rendo conto di quanto sia davvero comoda una action cam Perché con una reflex, un'altra macchina da presa La GH5 non è materialmente possibile prendere, appoggiarla e registrare Soprattutto se stai viaggiando in auto Questa per esempio l'ho appena incastrata nel cruscotto E sta assolutamente facendo il suo porco lavoro Devo assolutamente comprarmi la 5 Assolutamente Devo dire però che mi mancano un po' di accessori Ho una clamp qui che ovviamente ho rotto dopo due giorni Perché non l'ho comprata originale Ho trovato molta difficoltà nella smartina, nella mia macchina Per poterla attaccare da qualche parte E poi alla fine ho usato il pianalino che c'è di solito dentro la scatola Con sopra collegata alla GoPro E incastrato letteralmente in un pezzo del cruscotto Qui c'è il Velox Quest'oggi girerò questo spettacolo di danza Lavorerò tutto in 4K Perché ormai io lavoro quasi sempre soltanto in 4K Acquisirò l'immagine con la GH5 Però la registrerò in ProRes con l'Atomos Ninja Inferno Che devo dire mi piace veramente tanto Anche se non lo posso ancora sfruttare appieno Perché nella mia nuova GH5 Ancora non ho inserito il profilo di log Che va acquistato a parte Sì effettivamente la cosa è un po' discutibile Su un corpo macchina che costa 2000 euro ancora Io ancora non sono riuscito a trovarlo Il mio fornitore ancora non ce l'ha E quindi alcune funzioni della GH5 Soprattutto in HDMI sono letteralmente bloccato E questo mi fa un po' incazzare sinceramente Perché il Ninja Inferno è nato apposta per la GH5 E fondamentalmente lo sto sfruttando al momento al 70% Che bello sono arrivato al teatro Vediamo se c'è posto Ups mamma mia Non cado veramente poco Se non cado troppo un cazzo Io di solito so parcheggiare Uff Arrivati nel retro del teatro Che belle che sono Mamma mia Esce un po' buio E ora montiamo E anche piuttosto alla svelta perché il tempo è davvero poco La Super GH5 Un po' di matbox anche se qui in realtà non è particolarmente indispensabile Anzi Ma vista la mia posizione nel teatro Comunque rende la macchina un pochino più visibile Perché è ingombrante E muovendosi al buio sai Fall of focus Che uso per prendere il fuoco nel minimo dettaglio Anche questo non particolarmente fondamentale Ma ci sono abituato Il Super Ninja Inferno dell'Atomos Che è quello che registrerà tutto lo spettacolo questa sera Considerato che lo spettacolo è molto lungo Si parla di ore Che farò direttamente la color in macchina So che i colorist in questo momento vorrebbero uccidermi Ma per esigenze di lavoro e di post produzione Devo fare così Anche perché non è richiesta una color particolarmente cinematografica Questi pacchi batteria li ho trovati su Amazon Costano circa 45 euro l'uno E devo dire che sono veramente molto buoni Sono i primi battery pack che riescono a lavorare con l'Atomos Non per compatibilità ma semplicemente perché questo vuole tantissima energia E le batterie normali durano pochissimo Con una batteria di questo riesco a girare più di un'ora Dovrebbero garantirmi circa due ore e mezzo di autonomia Quindi la durata più o meno di quasi tutto lo spettacolo Comunque trovate il link in descrizione in caso state cercando dei battery pack belli potenti Quello alle mie spalle è il punto dove di solito si mettono gli operatori Per riprendere gli spettacoli in questo teatro Però onestamente a me non piace molto Perché come potete vedere da qua L'inquadratura è molto dall'alto E l'inquadratura dall'alto si utilizza quando si vuole schiacciare il soggetto Per togliergli potenza Per creare una drammaticità nella scena E invece qui si parla di danza Si parla di qualcosa di bello Qualcosa di gioioso Qualcosa di energico E quindi io ho optato per un'altra scelta Ho deciso di posizionarmi qui Al centro del teatro Perché in questo modo sono più altezza palco E questo mi permette non soltanto di non schiacciare le ballerine Ma mi permette anche di restituire nel video Un effetto ottico come se ancora fossimo nella platea E quindi lo rende molto molto gradevole E questo è un po' il mio segreto no? In questo tipo di video La scelta giusta dell'inquadratura giusta A seconda del soggetto Come ovviamente dovrebbe essere Andiamo dietro le quinte Siamo dietro le quinte Del palcoscenico Michael Il palco Oltre non possiamo andare perché ci sono le ballerine nude So che qualcuno di voi vorrebbe vederlo Però non si può È vietatissimo Ah ho dimenticato di dirvi che sono al teatro Dante Dedicato a Carlo Monni A Campivisenzia È o non è uno spettacolo? Tanto sta cominciando a riempirsi piano piano Tutta la platea E tra poco sarà impossibile Praticamente registrare Perché ci sarà troppo casino Quindi vi saluto adesso Ciao 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 ciao